Oh! Aiuto, che cosa ho calpestato? Se corro alla massima velocità si stancherà di sicuro! Vida! Aspetta, Ash! Su, andiamo, Scorbani! Scorbani! Vida! 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 Una sana corsa e tutto torna come prima, vero? Vida! 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 Ehi, sono appena passati il bamboccio e Pikachu! Cosa puoi ripetere? Pikachu! Ti chiedo scusa! Sta più attento! Che ti succede? La maledizione ha colpito di nuovo? Smettila! È una storia vecchia di tre anni! La fortuna è dalla mia parte e le cose non potrebbero andarmi meglio! Eccoti, Ash! Sento che quando quel Pokémon era in giro me la sono vista brutta! Non vincevo una lotta e tutti i Pokémon che provavo a catturare mi sfuggivano! Cadevo dalle scale e perdevo tutto in continuazione! Non riuscivo a combinarne una dritta in quel periodo! Hai descritto gli effetti tipici di una maledizione! Da quando mi sono sbarazzato di quel Pokémon va tutto a gonfie vele! Ascolta, tu resta qui e non allontanarti per nessun motivo, d'accordo? Venga! Via! Venga! 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 Ascolta, tu resta qui e non allontanarti per nessun motivo, d'accordo? Venga! Gingar! Bene, ecco qua, prego, entrate pure Gingar! 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 I FANTASMI! In fondo è solo un inutile Gengar, non avrei mai e poi mai dovuto catturarlo Gengar! Si può sapere che ci fai qui? Oh no, sei tu! Che cosa vuoi? Gengar! No, ti prendi!